Il senatore repubblicano dell'Arizona, John McCain, ha una grave forma di tumore al cervello. A comunicarlo è lo staff dell'ottantenne, candidato presidenziale nel 2008 contro Obama, operato lo scorso venerdì a Phoenix a un occhio per un coagulo di sangue legato alla presenza di un glioblastoma. McCain ora si sottoporrà a sedute di chemio e radioterapia.